Non sono aggiornato al momento. Ma tu voterai? Mi aggiorno, poi penso, non lo so, non lo so se voterò o no. Una cosa che non mi interessa, io sono qua, non sono interessato. Ma voterai? Ci sto pensando. Io la politica ultimamente non la sto seguendo, non ho la più palida idea, veramente no. Non sono più interessato per ovvi motivi, insomma, che non serve spiegarli immagino. Ma non è quello, uno dice una cosa e poi ne fa un'altra. Che sia destra, che sia sinistra, che sia centro, alla fine non sai chi votare. Tutto funziona in un modo che è andato troppo storto, non mi piace niente, politici neanche a Serbia, neanche a Italia, non mi piacciono politici, davvero. Hanno perso nostra fiducia. Oltre, di destra, sinistra, sono tutti uguali. Però bisogna andare a votare. Ma, maledetto. Sono abbastanza demoralizzata, più che altro, perché mi sembra che ogni volta che si va a votare poi facciano un po' quello che vogliono loro. Guardi, abbiamo dei rappresentanti che proprio non valgono niente. Però poi bisogna andare a votare. Lo so, lo so. Come si fa? L'italiano è un asino perché sbaglia sempre le votazioni. Non politico, non politico.